Bene per 5 milioni di euro sono stati sequestrati questa mattina a Cosimo Naviglio, 62enne, pregiudicato barese e a dei suoi familiari. L'indagine scaturisce dall'attività investigativa condotta dai carabinieri del comando provinciale di Bari che da gennaio ad oggi hanno accertato l'esistenza di un ingente patrimonio mobiliare e dimobiliare frutto del reimpiego di risorse finanziarie derivanti dalle attività illecite commesse tra gli anni Ottanta e il 2000. Cosimo Naviglio, già riconosciuto responsabile di traffico di sostanze stupefacenti nell'ambito di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di grossi quantitativi di cocaina tra l'Italia e i Balcani, pregiudicato inoltre per furto e detenzione di armi, già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, ha provveduto a ripulire i guadagni illeciti investendoli nell'acquisto di una lussuosa villa di 150 metri quadri e nella successiva costituzione di due società di capitali che fatturano circa 2 milioni di euro l'anno. E' per questo leader nel commercio e distribuzione all'ingrosso di bevande in Bari e provincia. Lo sviluppo delle indagini ha dimostrato la pericolosità sociale del Naviglio e messo in relazione ai redditi dichiarati al fisco l'ingiustificato alto tenore di vita. Con un decreto, la sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Bari ha sottoposto a sequestro due società, una lussuosa villa, sei autovetture tra cui una Mercedes del valore di 70 mila euro, un'imbarcazione e 19 rapporti di conto corrente bancari.